La vittoria l'abbiamo dedicata subito a lui perché era l'ultima azione e purtroppo io ero dalla panchina e non ho potuto vedere bene l'episodio, però loro si sono resi subito conto che si era fatto male e ci è dispiaciuto, quindi la vittoria era fondamentale dedicarla a lui. L'abbiamo visto adesso passeggiare qui lungo il spogliatoio, ci ha rassicurato perché ha detto che fra tre e quattro mesi sarà subito in campo, lunedì si opererà, quindi gli auguriamo in bocca al lupo. È una vittoria importantissima perché era uno scontro diretto fondamentale, sappiamo che dobbiamo far meglio dal punto di vista della prestazione, però è una vittoria che dà morale e sicuramente vale il doppio perché sono punti importantissimi. Il primo tempo come hai detto tu abbiamo sofferto un po' di meno, poi abbiamo subito quel rigore, il gol, però dopo siamo stati bravi a creare il gol del pareggio con il cross di Celli e il gol di Infantino e quindi siamo stati bravi nella reazione. Poi nel secondo tempo loro hanno preso più campo e ci hanno messo sotto purtroppo, quindi in settimana rivediamo gli episodi e cerchiamo di lavorare su quello che è mancato soprattutto nella seconda parte della partita. Grazie a tutti.